4 ottobre 2012 ci troviamo a via cardano 19 dove stanno per fare il ponte dell'autostrada come potete vedere allora stiamo un poco riprendendo tutta la situazione della strada in cui sono stato chiamato anche per riguardo il palo della luce che non funzionava e che ho segnalato allora come potete vedere siamo a via cardano queste sono le famose scalette allora il palo della luce è stato aggiustato dopo una settimana chiamando anche il sindaco, chiamando anche i responsabili e come si può vedere è aggiustato e qua come potete vedere anche i lavori che stanno ancora facendo l'autostrada vedete quindi stiamo un po' vedendo in diretta i lavori che stanno facendo come potete vedere qua dovrà essere fatto un ponte per il passaggio poi di via cardano di là qua è dove avevano denunciato anche segnalato dei furti che capitavano, dei scippi che capitavano infatti vedete ci sta la luce e il faro e qua dove l'autostrada sta facendo i lavori come potete osservare ci troviamo a via cardano come potete osservare ci troviamo a via cardano con questo ho finito Grazie